Salute a tutti! Il mio nome è Mattia Prometeo e benvenuti o bentornati, ma bentrovati, all'appuntamento quotidiano della rubrica del giorno del calendario. Calendario filosofico, ovviamente! Oggi è il 18 luglio 2021, la frase di oggi è anonima, pure oggi, però c'è scritto, non so se si legge, saggezza buddista. L'anonimo ha avuto questo personaggio ricorrente, per chi non lo conoscesse e fosse nuovo di questa rubrica, ospitiamo un sacco di frasi anonime da tutte le parti del mondo, alle volte senza titolo, senza neanche scritto proverbio, saggezza, eccetera. A quanto pare questo grande filosofo onnipresente è stato anche in Tibet, lasciando stare le sciocchezze, lasciate che vi legga la frase di oggi. Un saggio disse, non ti paragonare a nessuno, tieni sempre la testa ben alta e ricorda, non sei né migliore né peggiore, semplicemente sei tu, e questo nessuno lo può superare. Eviterò di entrare in polemica con le metodologie buddiste, che ho una mia personale interpretazione su come svolgere un cammino buddista, no? Poi c'è il cammino classico, dove tutti quanti fanno la stessa cosa nello stesso monastero e devono rispettare le stesse regole, avere tutti lo stesso stile di vita, no? Ecco, eviterò quella polemica, chi mi segue sa benissimo di cosa sto parlando, chi non mi segue lo risparmio. No, è una frase, quante volte l'ho espresso io lo stesso concetto, eppure ancora nessuno mi dice che sono diventato un Buddha, sarà perché non mi rado a zero. Comunque, non si radeva a zero manco quello, no? Che il Buddha è neanche Gautama. Comunque, tralasciando le sciocchezze. Siamo in una società di competizione, siamo noi occidentali, veniamo educati alla competizione fin dalla scuola, perché a scuola veniamo messi tutti quanti in fila e ci viene proposta la stessa sfida, lo stesso test a tutti quanti, indipendentemente dal fatto che ognuno di noi è unico. E poi, diciamo, subiamo tutti la stessa, gli stessi gradi, gli stessi voti, no? Cioè il mio 5 è il 5 di un altro e il 10 di qualcuno è due volte il mio 5, no? Non è che ognuno ha un test unico e irripetibile e ha una valutazione unica e irripetibile, no? Unica, univoca, fatta sommisura, no? Siamo tutti uniformati fin dalla scuola e poi questo pensiero che ci viene inculcato nella scuola, poi c'è chi inizia a pensare che pure la vita sia così, no? Mentre la vita è univoca e ognuno di noi sta vivendo un'esperienza assolutamente unica e irripetibile. È fisicamente impossibile che due persone abbiano la stessa esperienza dello stesso evento. È fisicamente impossibile. Eppure veniamo riempiti di queste immagini illusorie, veniamo riempiti di questa illusione, del fatto che bene o male siamo tutti in competizione per la stessa cosa, nello stesso modo, è che i risultati saranno uguali. Quando poi basta semplicemente, non dico diventare saggi, basta andare al bar, ascoltare un attimo, ma ascoltare veramente, non sentire così le sciocchezze, ma ascoltare veramente e si scopre, basta veramente solo andare al bar e si scopre che quello che porta felicità a una persona porta tristezza a un'altra. La stessa identica cosa. Questo perché ognuno di noi è unico e ognuno di noi è su un cammino unico e i risultati saranno comunque unici. Non possiamo, diciamo, non possiamo esimerci dal vedere che ogni essere umano, nelle situazioni in cui vive, applica comunque sempre il proprio punto di vista. C'è chi giudica gli eventi e c'è chi non li giudica, ma anche chi non li giudica non li giudica perché si trova in un determinato specifico, unico e ripetibile punto di vista. E quindi in ogni caso quello che ci accade viene filtrato dal nostro giudizio, anche quando poi esercitiamo il non giudizio. E quindi ovviamente nel nostro punto di vista ce l'avremo solo noi. Cioè ogni persona ha il proprio unico, irripetibile punto di vista. Come sarebbe possibile che due persone differenti possiedano lo stesso punto di vista? Possono averlo molto simile, ma identico assolutamente no. E quindi è assolutamente inutile paragonarsi agli altri perché ognuno di noi è sul proprio cammino, ha i propri tempi, ha le proprie necessità e le proprie uniche capacità. Quindi è inutile proprio paragonarsi agli altri. Bisogna soltanto paragonarsi a ciò che noi stessi eravamo ieri. Se io oggi faccio meglio di ciò che ho fatto ieri, a posto, perché sono a posto letteralmente, letteralmente, sono a posto con me stesso, perché ho fatto meglio di me di ieri. Gli altri possono essere, ad esempio, positivo o negativo. Perché poi quello che ottiene uno lo può ottenere chiunque altro. Siamo tutti esseri umani, per quanto siamo tutti unici e irripetibili, ovviamente le capacità che sviluppa una persona le può sviluppare chiunque altro. Si tratta semplicemente di mettersi sullo stesso cammino, ripetere le stesse cose. Gli altri ci possono anche insegnare a non ripetere gli stessi errori che hanno fatto loro e quindi velocizzare il nostro cammino, il nostro stato di apprendimento. A me è sempre sembrata una cosa ovvia, però appunto non lo è e quindi diventa una saggezza buddista. Il fatto è che in realtà questa cosa diventa una cosa normale, a mio dire, una frase assolutamente normale, diventa una frase saggia dal momento in cui ci ritroviamo a vivere come viviamo nella società occidentale oggigiorno, in cui c'è una competizione sfrenata per non si capisce neanche bene che cosa, perché ovviamente ci sono risorse per tutti. non siamo ancora 50 miliardi su questo pianeta, siamo 7 miliardi e medio, c'è ancora roba per tutti. Se evitiamo di figliare come matti e come coniglie, ci diamo una regolata ai pantaloni, evitiamo anche di arrivare a quei 50 miliardi che inevitabilmente comunque non ci si arriva a 50 miliardi. Come li nutri? Accidenti! Non le svilupperemo le risorse per 50 miliardi, si morirà di fame molto prima, ma queste cose non le dicono perché ovviamente poi la gente si spaventa. Ma ve lo dico io, non dovete stare tranquilli, perché se vi spaventate realizzate ciò di cui avete paura, se invece state tranquilli realizzate ciò che vi porta tranquillità. E quindi insomma non vi preoccupate, concentratevi su voi stessi che se ognuno salva se stesso poi non c'è più nessun altro da salvare. Tranquilli! Basta evitare il lavoro agli altri, facendogli il proprio lavoro di sé per sé e su di sé. Mi cari spettatori, grazie per l'attenzione, grazie per la visione. Io come sempre vi chiedo gentilmente se vi è piaciuto il video di lasciare un pollice in su, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornati all'uscita di ogni mio nuovo video. Se volete mettervi in contatto con me i link sono giù in descrizione, io per il resto come sempre vi auguro il meglio e solo il meglio e vi saluto fino al prossimo video. Ciao!